Barbara Pedrotti Barbara Pedrotti nasce a Rovereto, in Trentino, il 19 maggio del 1982 e alta 1 metro e 73 centimetri. Barbara è un volto iconico del mondo del calcio, a partire dal suo debutto nel 2014 a Serie A Live come fotista e nel 2015 a Sky Calcio Show di cui è diventata il volto. Ecco 5 cose che forse non sai su Barbara Pedrotti. Ha fatto molti sport sin da quando era bambina, tra cui ciclismo, nuoto e minimoto, ma non si è potuta cimentare nell'agonismo a causa di un problema al ginocchio. Ma dai? Ha partecipato alla celebre trasmissione Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Ma dai? Quando era ragazzina aveva una cotta enorme per il campione di MotoGP Valentino Rossi. Ma dai? Ha un rapporto tutto personale con la religione ma crede molto nel fare del bene e ammira tantissimo Papa Francesco. Ma dai? Da quando è morta sua nonna porta sempre con sé nel portafogli il rosario che l'aveva comprato a New York per regalo. Ciao. 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 Autore dei sorrisi